Allora siamo con... Marina. Marina? Marina Cugliacchi. Esatto. E siamo anche con... Marica. Marica, va bene. Amica di Marina. Amica. Tu non partecipi allo spettacolo, però sei qui per... Vedo, assisto. Per supporto, diciamo. Sei su supporter. Venite a vederci, mi raccomando. Una bella iniziativa, partecipate, perché veramente... Dove e quando? Già ho fatto tutto. Il 3 febbraio al Caffè degli Artigiani. Ridillo, ridillo che non si sente? 3 febbraio al Caffè degli Artigiani. Cioè qui dove siamo davanti? Esatto, proprio lì. Ore? Nove? Alle nove e mezza. Secondo spettacolo dieci e un quarto circa, più o meno. Sì, sì. Di che si tratta? Allora, si tratta di un compositore greco che si chiama Manus Kazidakis. Sì. E in Grecia è molto importante, è molto famoso. Ecco, d'accordo. Ma qua in Italia non lo conosce quasi nessuno. D'accordo. Tu sei esattamente di? Di dove sei? Di Atene? No. No, sono di Alexandrupoli. Alexandrupoli? Ma c'è una crebbe e altro. Non volevo diciamo così. Certo. D'accordo, va bene. E quindi si tratta di questo cantautore? Un cantautore? Anni? Anni sessanta. Anni sessanta, quindi il periodo glorioso. Esatto. La New Way greca, come c'era anche qua. La New Way, ma addirittura. D'accordo, un po'. Sì, sì. Quindi in realtà ascolterebbe delle belle canzoni scritte da lui. Sì. E vedrete anche un bel spettacolino, una storia d'amore. Addirittura, sì. Ma senti, quindi praticamente ogni tanto tra le canzoni c'è un po' una spiegazione dei testi. Certo. Perché magari non tutti conosciamo il greco. Ovvio. Io e la mia amica Artemis, la ragazza con cui faccio lo spettacolo. Sì. E abbiamo pensato un modo molto carino per fare la traduzione delle canzoni. D'accordo. Quindi poi le vedremo durante lo spettacolo stesso. Esatto. Va bene, mi sembra un'iniziativa. Senti, c'è un sito internet? No, ancora no. Dimmi di sì. No, come no? Non ce l'ha nessuno questo sito internet. Questa collaborazione è nata proprio per questo spettacolo. Dovete venire. Dovete venire. Dovete venire. Dovete venire a vederlo in prima persona. Esatto. Una persona rustica, artigianale, proprio. Dovete venire, ragazzi. Fatta col cuore. Fatta col cuore. Col cuore greco. Col cuore greco. Siamo sanguigni. Siamo mediterranei. Mediterranei. Eh. Niente, tecnologie, siti, robe. Dovete venire voi. Come si diceva, come si dice nel film mediterraneo, una fazza, una razza. Oh, e allora? Mercoledì. Mercoledì non mancate. gehen. 生活. Nutri. Musica. Musica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.